Prende il via con l'appalto del primo lotto dei lavori l'opera di riqualificazione di tutta l'area dell'ex ipodromo Villa delle Rose, un progetto sul quale anche in campagna elettorale l'attuale amministrazione aveva puntato molto. E questa mattina, a testimoniare che non ci sono solo parole promesse ma fatti, l'assessore ai lavori pubblici Pino Valente, insieme al responsabile del procedimento Aldo Carosella e a Lucio Gallucci, ha presentato il progetto, ben visibile nei disegni dei tecnici, che parte con il rifacimento e la sistemazione delle tribune. Per Valente dunque si tratta di un giorno importante. Un giorno importante, annunciamo l'inizio dell'iter per la realizzazione dei gradoni all'interno dell'ex ipodromo, un progetto di 300.000 euro, quindi presentiamo il progetto esecutivo, da oggi si parte con tutte le autorizzazioni per poter realizzare l'opera. Il cronoprogramma prevede la realizzazione dei gradoni entro il 2017, sperando che non ci siano intoppi burocratici che in un appalto di queste dimensioni può sempre esserci. Sette gradoni per un totale di 2400 posti circa verranno utilizzati materiali di grande pregio come il porfido e la pietra di Apricena, quindi uno sforzo per rendere ancora più belle e attrattive il nostro centro cittadino. Il primo step, prevediamo un lavoro di ricucitura, questo è un progetto importante perché si va a inserire con altri progetti a una riqualificazione più ampia del centro cittadino. All'interno dell'ex ipodromo nel secondo lotto è prevista la pista ciclabile che si ricollega con la pista ciclabile di Via del Mare e all'interno dell'ex ipodromo ci sarà il proseguimento del corso che sboccherà fino all'ex torieri. Quindi è un lavoro importante, un progetto in house fatto dai nostri tecnici, dal settore lavori pubblici, che ringrazio di cuore per l'abnegazione e per proprio lo spirito con cui si sono dedicati alla realizzazione di questo progetto. Il campo esposito per adesso in questo primo lotto non verrà toccato, è chiaro che nel secondo lotto con il proseguimento del corso all'interno dell'ipodromo dovrà essere spostato. Però questo fa parte del secondo lotto quando arriveranno i fondi regionali. Ma se la soddisfazione è evidente per l'inizio dei lavori all'ex ipodromo, lo è altrettanto per il risultato referendario, che ha premiato la posizione coerente e convinta di Progetto Lanciano, dice Valente. Sì, noi abbiamo preso posizioni in maniera chiara sul referendum, schierandoci con il fronte del no, ma per un motivo molto semplice. Progetto Lanciano è un movimento civico che fa gli interessi del territorio e questa riforma andava contro i territori, riaccentrando tutta Roma e quindi riproponendo una ricetta che era fallita nei decenni precedenti. Quindi una riforma romanocentrica che a noi non piaceva, l'errore fatto dall'ex premier Renzi di aver personalizzato una riforma che invece doveva essere spersonalizzata. Per questo poi si è dovuto dimettere. Noi a Lanciano abbiamo ottenuto un risultato ancora migliore di quello nazionale, arrivando quasi al 67%, a dimostrazione che Lanciano è veramente la capitale dell'ambientalismo abruzzese. Voglio ricordare che anche sul referendum delle Trivelle, tra le grandi città, Lanciano è stata l'unica ad aver superato il quorum del 50% di partecipazione. Quindi una sensibilità forte su queste tematiche. Noi che siamo statati sempre in prima fila su queste battaglie, siamo rimasti coerenti con i nostri pensieri e con il nostro agire quotidiano. Ma questo risultato, che ha visto il primo cittadino e il gruppo consigliare del Partito Democratico soccombere, non turberà gli equilibri all'interno della maggioranza consigliare, che continua a ritrovarsi in un programma condiviso, ribadisce ancora una volta il Vice Sindaco. Assolutamente è così, l'attività amministrativa, noi ci siamo presentati alla città con un programma ben preciso che ha ripagato i nostri sforzi, siamo stati rieletti con una percentuale importante dai cittadini lancianesi per realizzare quel programma ben preciso amministrativo. Nel programma amministrativo non c'era il referendum, quindi sul referendum si possono avere posizioni diverse, ma l'importante poi è fare il bene dei cittadini. Noi oggi siamo qui, gomito a gomito, io e il Sindaco a presentare un progetto importante per la città di Lanciano. Questa è la politica del fare, questo è quello che vogliono i cittadini, vedere i progetti che poi si vanno a realizzare e concretizzare.